Buonasera, buonasera a tutti amici. Vi avevo promesso che avrei fatto questo secondo video circa la pronuncia della Cassazione su Antonio Loggi. Mancano cinque giorni alla pronuncia e tutti coloro che hanno seguito questo caso sono, diciamo, interessati, quasi direi in apprezzione perché questo è un caso molto particolare, come sapete, in cui il corpo, non solo il corpo della Roberta Ragusa non è stata mai ritrovata e quindi ci sono ipotesi suggestive che possano essere mostre, ma soprattutto non ci sono prove provate della colpevolezza del marito, anche se io vi ripeto sono intimamente convinto della sua colpevolezza, ma è un caso questo veramente suggestivo perché si fatica a livello giuridico di trovare una soluzione che vada al di là di ogni ragionevole dubbio. Vedete, la teoria dell'allontanamento volontario ovviamente non si sposa con il buon senso perché stiamo parlando del 14 gennaio 2012, in questa questa notte, dopo mezzanotte, questo 14 gennaio 2012, scompare questa donna, una notte in cui a San Gello di San Giuliano, provincia di Pisa, c'è una temperatura minima di meno 6 gradi, meno 6 gradi, immaginate quindi già come sia inopinabile che una persona apra la porta dell'abitazione e scappi fuori a vagare con un gelo di quel genere che non permetterebbe a nessuno normalmente di stare più di 5-10 minuti, voglio dire, a quella temperatura senza un'adeguata copertura o senza sapere dove andare perché lì intorno a parte delle case poi c'è il nulla dei campi e quindi sembra difficile pensare che ci sia stata una fuga in queste condizioni. Ora ha fatto molto scalpore anche quanto dichiarato dai figli della Roberta Aracusa che a distanza di anni difendono il padre a spadatratta, la mamma sembra quasi un ricordo diciamo affievolito perché ne parlano ecco ne parlano come Roberta non come mamma perché forse sarà anche una difesa a livello psicologico per superare questo immenso dolore dell'epoca. Fatto sta che essi parlano bene del padre che non c'è mai stato nessun tipo di violenza o altro o litigi o qualcosa che potesse far pensare a un tragico epilogo. L'unica cosa, l'unico episodio diciamo a cui ci si attacca un po' predessuosamente quel fatto che si è un po' venuto a conoscenza dal diario della Roberta Aracusa cioè quella caduta dalla scala di una settimana prima o pochi giorni prima quando egli un po' scherzosamente fra il serio e il faceto disse ma mio marito mi voleva uccidere perché insomma andando a passare un pacco lui dalla scala cade e va finita addosso e lei sbatte la testa allora lo stesso moglie all'inizio sembra di voler attribuire a questa caduta un po' una perdita di memoria da parte della moglie che quindi in base a questa perdita di memoria poi sarebbe potuta andare via vagando per dove per i campi ma qualora fosse stata così si sarebbe ritrovata la povera donna morta evidentemente il giorno dopo così non è stata e non può essere stata come enigmatica è la figura di questa Sara Garzolaio che è un po' enigmatica perché è colei che in effetti manovra l'Antonio Logli mentre l'Antonio Logli è una persona molto fine acuta e intelligente però come spesso avviene ha dei lati di debolezza il suo lato di debolezza è questa Sara Garzolaio che da babysitter diciamo da persona di fiducia si introduce nella casa e diventa diventa l'amante e e poi nel giro di poco tempo va a vivere proprio nella casa nella casa di Antonio Logli e di Roberta Ragusa e si dice ma com'è che è andata a vivere la quindi vuol dire che Antonio sa che la la moglie non tornerà beh certamente si può anche pensare così ma anche no perché sicuramente una una donna che scompare nella notte e il cui corpo non viene ritrovato né alcuna segnalazione probante viene fatta non può essere che aver fatto una brutta fine bisogna bisogna scoprire soltanto per mani di chi è inutile che ogni tanto si si legga a bistata Roberta Ragusa non so una volta negli Stati Uniti una volta da una parte da un'altra ma ovviamente o sono dei millantatori oppure sono delle delle somiglianze molto relative ma ma secondo me lasciano il tempo che trovano quindi non credo sia eh così certamente una persona non può sparire volontariamente di notte senza postarsi né soldi né effetti personali né documenti di qualsiasi tipo non 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 credo non 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 si fa in questo modo uno non potrebbe andare da da nessuna parte e d'altronde come dissi nel video precedente però l'accusa è debole proprio è debole proprio negli elementi che dovrebbero essere forti in questi elementi forti che dovrebbero essere i testimoni testimoni che stringi stringi è uno uno e mezzo forse due ma gira tutto attorno a questo giostraio questo loro risicolsi che ovviamente non è ehm attendibile non è molto attendibile vuoi perché la sua testimonianza è stata molto tardiva sia perché è stata aggiustata nei particolari di volta in volta eh sia perché eh sembra un personaggio in cerca di notorietà eh non di notorietà più che altri in cerca di visibilità perché la sua vita di giostraio è stata molto oscura molti precedenti penali è stata pure in carcere insomma non il massimo poi eh per quello che dice di aver di aver visto eh due persone lì che litigavano di aver prima dice che non di non conosce poi si aveva riconosciuto Antonio Logli però però pure dicevuto che il giorno dopo Antonio Logli si è presentato a casa sua con una foto della moglie tutto quello che sapete che mi sembra comunque una circostanza del tutto litigola su questa su questa unica testimonianza che potrebbe avere una parvenza di verità si innesca la testimonianza di quella pian pian e quella donna che purtroppo ha dei gravi problemi psicologici eccetera che non è stato ritenuto comunque attendibile come pure estemporaneamente c'è stata una deposizione di un ex vigile del fuoco che dopo dopo un paio d'anni si è ricordato forse di aver visto passando di lì una donna in pigiama cose che certamente non bastano non possono bastare per decidere della vita di un uomo non parliamo di un ex gastro lo sarebbero i vent'anni ma vent'anni per un uomo che non so quanto ne ha ma che ne ha certamente più di cinquanta sotto la sessantina certamente equivale su per giù a un ex gastro quindi gli elementi giuridicamente non non ci sono e invece fattualmente visto che è stata scandagliata la vita di roberta ragusa non sono emersi ad esempio tipo amanti altre cose sarebbero venuti fuori non è emerso niente quindi a livello logico lui è e non può essere che lui però vedete noi siamo in uno stato di diritto e questo è ciò che mi macera da come dire da appassionato della legge appassionato del diritto mi macera questo non potrei mai essere un giudice di questo caso qua perché mentre in altri casi io mi sono esposto molto molto decisamente caso scazzi sul caso di gianna del gaudio di parolisi sono vari vari casi mi sono esposto in una maniera determinata perché credo che in quei casi si fosse arrivato ad una verità al di là di ogni ragionevole dubbio mentre invece in questo caso qui certamente che no certamente che no perché ripeto pur essendo intimamente convinto della colpevolezza dell'antonio roglie che non poteva essere lui anche per il fatto del corpo che non si trovi lì teoricamente egli si è fatto questo poi ha avuto tutta la notte parliamoci chiaro per far sparire il corpo non c'era bisogno di andare nei cimiteri nelle inceneritori di chiamare gente non c'era bisogno la ci sono chilometri e chilometri di campagna anche abbandonato bastava andare dovunque fare una buca e seppellire il corpo e una volta che la natura ha dipristinato lo stato suo antecedente non si trova niente più quindi non è il fatto del corpo il fatto è che a livello di prove non c'è nulla questi testimoni sono testimoni improbabili tardivi contraddittori il fatto che gli avesse un amante è diciamo di provevole dal punto di vista morale anche se oggi non ci si meraviglia più di niente in questa società figuratevi quante persone hanno amanti più o meno segreti storie parallele eccetera eccetera e quindi che ce l'avesse anche lui poi è venuto fuori tutto questo can can perché è successo quello che è successo e lo stesso fatto che egli abbia nell'imminenza poi telefonato alla strada carazzolaia a dire prendi i nostri telefoni buttali eccetera può essere anche capibile dal punto di vista che pensavo certamente che poi le indagini avesse portate a scoprire questa relazione quindi magari a pensare che questa relazione avesse influito sul delitto se ognuno questo voglio dire se ognuno volesse arrivare a un omicidio per ogni coppia che è in crisi oppure che qualcuno c'è un amante beh ogni giorno dovremmo avere centinaia di delitti o di scomparse non c'entra niente secondo me il fatto di avere e non avere un amante c'entra se in quel momento c'è stato un scontro fra i congi un delitto d'impero magari è andato al di là di quello che si doveva che si voleva fare e poi il corpo è stato fatto sparire l'ultima di quelle ipotesi l'ultima ipotesi è quella di un allontanamento volontario che mi sembra proprio nemmeno se venisse un UFO e prendesse la signora e la portasse via sarebbe più credibile ecco una cosa del genere cioè che un ecco stato e destra l'avesse rapita che non a luna di notte un signor nessuno rapisce una persona ma per quelle strade desertissime di notte a meno sei gradi non esiste quindi io veramente mi trovo a non saper decidere e aspetto con ansia ciò che dirà la stazione e poi anche tutte le motivazioni perché è concludo D'Antonio Logli non può essere che stato lui il colpevole ma contro di lui ci sono degli indizi molto molto labili e non si è trovato altro quindi aspetto con ansia la stazione alla prossima per qualche altro caso di cronata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti